Cosa ci dici di questo torneo? No, più che altro della tua prestazione. Ah, mia prestazione? Ero un po' riposato dopo una settimana e mezza di stop e ho lavorato solo un giorno e mezzo alla fine. Io ero un po' più fresco degli altri, ma speriamo di prendere la condizione in fretta. Diciamo che comunque hai già fatto vedere delle buone cose. Beh, sì, diciamo di sì, insomma. Sì, sulla fascia mi piace andare. Eh, andare, fare un po' impazzire col tuorlo disperato che c'è contro, non male. Cosa manca ancora secondo te in generale per arrivare pronti? Beh, stiamo lavorando tantissimo. Un po' più di brillantezza ci manca sicuramente. Un po' la condizione, ma adesso comunque manca ancora una settimana e mezza al primo di Coppa Italia, quindi... E' come per Albert, magari qualche minuto in più nelle gambe? Sì, adesso magari qualcosa in più, perché visto che sto fermo quasi dieci giorni, ci vuole qualcosa in più sulle gambe. Ok. Grazie mille. Grazie pure.